Ciao a tutti, se volete un valido aiuto per le pulizie di casa o fuori casa possiamo farlo benissimo con l'aspirapolvere della Steel SE 62. Questo aspirapolvere può essere utilizzato in casa ma anche per eliminare polvere sporcizia e liquidi laddove il nostro aspirapolvere di casa non ne può più. Quindi lo possiamo impiegare anche in garage, nel capannone, per l'auto, il furgone, il trattore e non da ultimo, grazie al suo tubo molto leggero, anche ad aspirare le ragnatele. Il suo tubo componibile aiuta negli spazi ristretti. Costruito in materiale high-tech, leggero, potente e robusto, assorbe al massimo solo 1.400 watt, pesa 7,5 kg, ha una capacità di 20 litri, ha un sacco molto economico in tessuto non tessuto, ha un tubo flessibile di 2,5 metri ed ha anche una funzione soffiante molto comoda inserendo il tubo nella presa d'aria in uscita. È dotato di un sistema di filtri a più stadi, pulizia del filtro, di una spazzola per pavimenti con pedalino di conversione, ugello universale e ugello per fughe. Molti accessori disponibili tra i quali il set per aspirazione dei liquidi, oppure il set per la pulizia dell'auto. Costa meno di 150 euro e ricordate che assistenza e ricambi sono sempre disponibili nel tempo. Per maggiori informazioni cliccate sul link che trovate in questo video. Ciao, buone pulizie.